Non hanno dubbi i giudici del Tribunale Paolo Romeo è l'esempio dello sviluppo moderno del ruolo dranghetistico. Nel processo gota l'avvocato ex parlamentare condannato in primo grado a 25 anni è figura centrale e nelle motivazioni della sentenza 7.683 pagine depositate vantieri viene dipinto come una raffinata intelligenza in asse con la mala regina. Lui che ha attraversato presso che indenne a notoni giudici almeno tre lusti in cui salvo il periodo della carcerazione ha esercitato un ruolo di soggetto al vertice della struttura criminale. Tutto o gran parte ruoterebbe attorno alla cosiddetta massoneria segreta menzionata dallo stesso Romeo in una discussione del 17 maggio del 2002 in presenza secondo gli inquirenti di Giorgio De Stefano. I metodi praticati scrive il collegio ricostruendo il ruolo e la figura di Romeo erano resi possibili da una fitta rete di relazioni in tessute nel tempo con soggetti con ruoli istituzionali e allo stesso tempo con la mafia tradizionale in posizione di raccordo tra il vecchio e il nuovo per assicurare all'ente criminale di preservare la propria esistenza ed accrescere la propria potenza accedendo alle stanze del potere amministrativo. Una convergenza di soggetti con ruoli istituzionali in un ente partecipato anche da soggetti appartenenti alle consorterie criminali. A Romeo e Giorgio De Stefano raggiunta la storica Pax mafiosa competeva il ruolo di preservare gli equilibri raggiunti tutto nel segno della spartizione del denaro e del potere contando su politici spregiudicati e imprenditori mafiosi mobilitati nel condizionamento del consenso elettorale con l'impegno a riconoscergli la percezione di importanti risorse finanziarie pubbliche. Insomma il quadro almeno per i giudici è chiarissimo rispetto al ruolo di primazia esercitato da Paolo Romeo quale soggetto appartenente alla massoneria di promanazione della consorteria De Stefano con il compito di infiltrare i contesti politico istituzionali e garantire a De Stefano e all'andrangheta di Reggio secondo le logiche spartitorie convenute in occasione della Pax mafiosa a cui il raggiungimento pure Romeo aveva dato un contributo rilevante la percezione dei proventi estorsivi attraverso la garanzia agli imprenditori collusi di aggiudicazione degli appalti pubblici. Per i giudici del tribunale Romeo sarebbe comunque componente della massoneria segreta o componente riservata dell'andrangheta unitaria come esponente della consorteria di De Stefano. Il potere sarebbe stato a 360 gradi nel comune di Reggio quando il circolo Posidonia fu danneggiato pare da esponenti dello schieramento Fontana Saraceno Rodà. L'intervento di Romeo avrebbe richiamato una estromissione di soggetti dall'organizzazione criminale. 15 condanne altrettanti però a soluzioni. In 7.600 tra tre pagine il tribunale collegiale di Reggio, presidente Silvia Capone e giudici all'Atare Andrina Mazzariello e Stefania Cervo spiegano perché si è deciso per 15 condanne ed altrettante assoluzioni. Tra le condanne eccellenti quelle subite dall'avvocato Paolo Romeo e dall'ex consigliere regionale Alberto Sarra. Tra le assoluzioni eccellenti spiccano quella dell'allora senatore Antonio Caridi e dell'ex presidente della provincia regina Giuseppe Raffa. Dalla notifica del deposito del collegio di difesa e per le strategie opposte alla procura antimafia di Reggio avranno 45 giorni di tempo per il ricorso in appello. Termini che però scatteranno dal primo settembre vista la coincidenza con la pausa estiva che come sappiamo comprende l'intero mese di agosto. Il processo GOTA è nato dalla riunione delle inchieste Mamma Santissima, Region, Fata Morgana, Alchimia e Sistema Reggio.